Ho letto parecchi libri sulla diplomazia, ho letto dei libri naturalmente sulle guerre, su come iniziano le guerre, sono molti di più i libri su come iniziano le guerre di quelli su come finiscono, perché per lo più molti autori hanno scontato che finiscono con la vittoria di uno sull'altro e quindi c'è poco da discutere. Però come finiscono davvero e sulle conseguenze della fine delle guerre sono raramente un oggetto di discussione. Tutti sanno, tutti dovrebbero sapere, che uno dei grandi libri su come è finita la prima guerra mondiale, quello di Keynes, le conseguenze economiche della pace, già sottolineava che non doveva finire così, cioè che gli alleati, i vincitori, avevano costretto la Germania ad una resa che, che sarebbe stata costosissima e che infatti poi venne usata da Hitler e dai suoi sostenitori contro, per l'appunto, quel tipo di condizioni e che costituivano un elemento di crescita del nazismo. Le guerre possono finire anche attraverso delle mediazioni, questo è quello che dobbiamo affrontare, però non abbiamo abbastanza materiale, forse possiamo chiederci oggi, e quindi lascio la parte teorica, ma oggi chi possono essere i mediatori? Io come noto non sono un sostenitore del Papa, credo che il Papa sia partito all'inizio con il piede sbagliato, ha fatto poi bene a rimettere i piedi sulla terra entrambi, non so quanto è utile che il cardinale Dupi vada in giro, però prendo atto che se riesce a far tornare i bambini che sono stati rubati dai russi alle loro rispettive famiglie in Ucraina, questo sarebbe già un grande successo. Però mi chiedo, la mediazione non dovrebbe essere affidata al punto più elevato, e il punto più elevato non sono comunque le Nazioni Unite, non è lì che dovrebbe partire una vera mediazione. Nel Consiglio di Sicurezza, sì è vero che nel Consiglio di Sicurezza c'è il diritto di veto da parte di ciascuno delle grandi potenze, quindi si potrebbe fare poca strada. Però è lì per l'appunto che proprio perché si può fare poca strada, si può anche fare molta strada, perché se non viene esercitato il diritto di veto si possono andare a vedere le carte di tutti, a vedere chi è disposto a concedere che cosa, e eventualmente naturalmente si può invitare Zelensky, perché non si può fare la pace alle spalle o sulle spalle di Zelensky. Perché bisogna che il Presidente dell'Ucraina sia assolutamente presente a questi negoziati. E allora non mi chiedo, nessuno è in grado di prendere questa iniziativa, perché questa è una guerra fra Stati, fra uno Stato despotico, autoritario, che è la Russia, e uno Stato democratico, per quanto naturalmente imperfetto, ma tutti voi sapete che le democrazie sono imperfette. E quindi bisogna trovare una soluzione fra Stati. Fra Stati e quale è l'organizzazione degli Stati? Le Nazioni Unite. E' lì che bisogna andare a cercare, è lì che bisogna stendere qualche cosa che assomigli a un piano di pace. Chiudo con una curiosa constatazione, perché i giornali ieri erano pieni di articoli che parlavano di una giusta pace. Nella letteratura internazionale non c'è la giusta pace, c'è una pace giusta. La pace cioè che rispetta alcuni criteri, che rispetta soprattutto l'integrità territoriale e l'autodeterminazione dei popoli. Questo è il principio irrinunciabile. Di tutto il resto si può discutere e naturalmente discutendo si può decidere chi contribuirà a che cosa. La ricostruzione dell'Ukraine è certamente qualcosa di molto importante. Si può anche offrire qualcosa alla Russia. Se il problema è il riconoscimento dello status di potenza abbastanza grande alla Russia, questa operazione deve essere tentata in maniera esplicita, aperta, dicendo che sì, la Russia può essere una grande potenza e che però deve rispettare alcuni dei criteri che stanno a fondamento di quello che anche qui viene messo in discussione, ma l'ordine politico internazionale, non lo chiamerò l'ordine liberale, ma l'ordine politico internazionale è una garanzia per tutti. Questo deve essere posto a fondamento di qualsiasi giusta pace, pace giusta.